Near Protocol contro Solana. Ethereum scaccomato. Facciamo un altro lookfro tra due chain tra di loro in competizione per comprendere il potenziale che una ha sull'altra. E ci saranno tante notizie e informazioni che alla maggior parte di voi non piaceranno. Partiamo come sempre con un brevissimo disclaimer. La società è esposta in entrambi gli asset con diversi pesi strategici. Verso la fine della sessione faremo una rivelazione in relazione appunto a soprattutto Near Protocol. Partiamo come sempre in rassegna con 8 punti base per comprendere le caratteristiche distintive di una chain rispetto all'altra. Fondatori, protocollo di validazione, supply, velocità e costi di transazione, price action, nominal stake, ecosistema e DeFi. Fondatori. Beh qui c'è una triade. Irik Troutman, Ilya Polussuskin e Alexander Skidanov. Andatevi a vedere oltretutto le foto di Ilya Polussuskin che se lo immaginate con i capelli un po' più lunghi assomiglierebbe anche a Vitalik Buterin. Ebbene si tratta rispettivamente del fondatore di Viking Education, il secondo è un ingegnere di Google e il terzo è un computer scientist di Microsoft. Quindi di fatto abbiamo una compagine di fondazione di elevato spessore e prestigio professionale. Near Protocol ha oltre 260.000 follower lanciata nel 2018. Solana nasce dalla genialità di Anatoly Iacovenko. Anche lui con un prestigioso passato nell'ambito IT, software e ingegneria all'interno di Qualcomm. Solana ha oltre 1.100.000 follower lanciata nel 2017. Protocollo di validazione. Attenzione perché qui si aprono grandi scenari sia anche di interpretazione del mercato. Near Protocol, terza generazione di blockchain all'interno del meccanismo di Proof of Stake con un proprio protocollo di validazione che si è stato battezzato TPOS, Free Solded Proof of Stake. Il parallel processing è consentito diversamente come vedete da invece Solana e questo ha delle ripercussioni che comprenderemo alla fine di questa sessione. Solana come protocollo di validazione si basa sul Proof of History, rappresenta la prima generazione di blockchain che utilizza il Proof of History. Vi lascio in descrizione come sempre i link per andare ad approfondire che cos'è il Proof of History. Che è stato esaminato in passato, pertanto oggi ci soffermeremo solo sul protocollo di validazione di Near Protocol. Attenzione, lo sharding di nuova generazione, il Nightshade. L'architettura di sharding ideata da Near Protocol è denominata Nightshade, che è una variante più efficiente e più scalabile di Ethereum 2.0 e qui si apre veramente un mondo, la quale consente a ciascun nodo partecipante nella blockchain di archiviare solo un piccolo sottoinsieme dei dati della piattaforma. In contrapposizione con lo sharding di Ethereum 2.0, gli shards, cioè quindi le frazioni, le spezzature di Nightshade, producono una frazione del blocco successivo chiamata chunk trancio sezione. In tal modo il protocollo Near è in grado di raggiungere anche 100.000 transazioni al secondo e avere la convalida delle transazioni quasi istantanea grazie alla formazione di un blocco al secondo. Tutto lo schema di generazione dei blocchi, cioè conferma dei blocchi, è chiamato Doomslag. Le commissioni vengono mantenute praticamente pari a zero. Uno dei principali vantaggi di Nightshade è che la sua architettura consente un minor numero di potenziali errori rispetto al termine della sicurezza in quanto i nodi partecipanti sono responsabili solo del mantenimento di sezioni più piccole della catena, appunto i chunk. Inoltre il protocollo Near ha sviluppato il Rainbow Bridge che consente di trasferire facilmente i token Ethereum avanti e indietro tra Ethereum e Near e anche questo rappresenta un punto di elevatissimo interesse relativamente al potenziale che ha e potrà avere Near. Questo è uno schema che fa comprendere visivamente la differenza che c'è tra Ethereum 2.0, tra la famosa beacon chain, come potete vedere l'architettura di sharding e quella a sinistra di Ethereum 2.0 quando arriverà e così via discorrendo, mentre quella di Near, il Nightshade, come potete notare, è molto più snella in quanto va a suddividere i blocchi in chunk. I chunk sono tranci letteralmente di blocchi che consentono di essere validati in relazione alle modalità che ha concepito il protocollo. Pertanto chi oggi ha una visione a neanche medio-lungo termine ma già nel breve termine su Ethereum 2.0 dovrebbe guardarsi come funziona proprio Near Protocol perché Near Protocol potrebbe essere uno di quei contender, neanche Ethereum killer, ma contender che metterà profondamente in difficoltà proprio Ethereum in relazione alla sua scalabilità. Andiamo avanti, qui vedete un altro raffronto tra diverse chain che utilizzano tutto il principio di architettura attraverso lo sharding. Come potete notare il potenziale che ha Near è addirittura superiore a quello anche di Elrond e ha tutta una serie di facilitazioni che contraddistinguono fortemente questo tipo di progetto che vedremo adesso man mano che andiamo avanti. Il protocollo di validazione, questo TPOS. I validatori sono scelti ovviamente in base a quest'ultimo protocollo il quale utilizza un'asta, un'auction per determinare quanti seeds, quanti posti saranno assegnati a ciascun potenziale validatore. Le aste sono progettate per fornire un'allocazione equa e in termini di pari opportunità e consentire a quante più persone possibile di partecipare al processo di convalida della rete in modo che possa ottenere un decentramento significativo. Siamo ancora in una prima fase di sviluppo e di adozione dei Near Protocol. Un validatore può aspettarsi deterministicamente di partecipare al processo di validazione in una proporzione che corrisponda alla sua proporzione della partecipazione totale nella rete, vale a dire in base a quanti token Near detiene. I possibili ruoli sono il producer del blocco, il producer del chunk e il cosiddetto validator hidden, cioè il validatore nascosto. Ricorda vagamente un po' come funziona anche Elrond, infatti alla fine le architetture di Sharding hanno tutti i punti di contatto di tangenza uno con l'altro. Indipendentemente dal ruolo assegnato al validatore, la sua ricompensa sarà proporzionale alla percentuale dell'importo totale puntato dal validatore. Questo è fondamentale, ciò significa che non è necessario unire le puntate al di sotto del minimo richiesto per diventare un validatore. Questo è un esempio di come funziona attraverso uno schema il protocollo di validazione in cui si prendono gli stake, cioè quanti token detiene un soggetto, un partecipante al network che voglia andare a validare, poi l'auction dei seeds e poi come si arriva ad ottenere gli slot di partecipazione per il processo di validazione. È veramente molto interessante, attraente e anche affascinante. E' proprio per questo motivo che Near Protocol dovrebbe essere, a nostro modo di vedere, considerato uno di quei crypto asset in pole position per il 2022. Andiamo avanti. Il ruolo del token. Le applicazioni su Near devono pagare... Attenzione, qui si apre un altro straordinario scenario che fa capire perché Near Protocol potrebbe effettivamente avere un effetto booming, avere un successo booming durante quest'anno. Devono pagare le tariffe di archiviazione al protocollo Near per tutti i dati che memorizzano sulla rete per l'esecuzione dei calcoli, tutto il potere computazionale. La rete brucia parzialmente questi token o li elimina dalla circolazione riducendo nel processo la fornitura circolante di token. I computer, cioè i validatori, che eseguono il software del protocollo Near garantiscono che le transazioni siano accurate e note ai validatori. I validatori ricevono una ricompensa per il mantenimento della sicurezza e della validità della chain piazzando i propri token sulla rete, appunto la logica del proof of stake. Il protocollo Near aumenta la fornitura di token ogni anno e il 90% di questi token vengono rilasciati ai validatori. Il resto va alla tesoreria della blockchain per sopportare lo sviluppo della piattaforma. È per questo che esiste concepita la cosiddetta treasury protocol, la tesoreria del protocollo, che riceve lo 0.5% dell'offerta totale ogni anno da reinvestire continuamente nello sviluppo dell'ecosistema. E questo ricorda, a chi lo ha affrontato e studiato, anche il funzionamento di Dash, che ha anch'esso una propria tesoreria interna, che serve proprio per spingere, creare tutti quegli benefici, tutti quegli incentivi perché sia adottato e utilizzato. L'inflazione e la combinazione dei pagamenti ai validatori e la tesoreria del protocollo, o meno ovviamente le commissioni di transazioni. Nel suo complesso arriva ad un massimo del 5%. Tuttavia, può diminuire nel tempo man mano che la rete venga sempre più utilizzata, in quanto le commissioni sulle transazioni hanno una percentuale di burning. Questo significa che la blockchain potrebbe diventare deflattiva in caso di intenso utilizzo. Notate che ci sono delle similitudini dei punti di tangenza anche con Ethereum 2.0. Ovviamente tutto il protocollo Nier è ancora in fase di intenso sviluppo, al pari di quello che potremmo dire per Ethereum 2.0, però Nier Protocol funziona oggi. Se uno volesse andare a sviluppare, lo può fare e mettere in rete e utilizzare a tutti gli effetti una propria digital application sviluppata su questo tipo di blockchain. Come potete vedere, è previsto entro il primo trimestre di quest'anno, 2022, la fase che consentirà l'implementazione della validazione dei chunk. Non si parlerà più solo di validare i blocchi, ma anche i chunk, cioè quelle sezioni dei blocchi che rendono per questo motivo Nier Protocol particolarmente veloce, efficiente e dinamica. Aurora, da non confondere con un'altra Aurora, che è listata sotto Ethereum, è una soluzione di scaling layer 2 basata sul protocollo Nier, quindi sostanzialmente consente, che cosa? Di lanciare le applicazioni decentralizzate di Ethereum sulla rete Nier. Aurora è costruito utilizzando la tecnologia di codifica di Ethereum e la famosa Ethereum Virtual Machine. È anche un bridge cross-chain che consente agli sviluppatori di collegare i loro contrari, i loro smart contract, con le risorse di Ethereum senza soluzione di continuità. Gli sviluppatori possono utilizzare Aurora e avere tutto il vantaggio del protocollo Nier, la familiarità con il codice di programmazione e la rete di applicazioni, ovviamente Ethereum. È fondamentale questa copiata, Nier Protocol da una parte e Aurora dall'altra, che consentono di fatto a chi ha sviluppato qualcosa su Ethereum negli anni passati e adesso si trova bloccato perché ha un digital application, o un crypto project che non può vivere la causa e tutti i problemi che sono ben risaputi di Ethereum, si sposta su Nier Protocol e lo può fare con una facilità quasi disarmante, proprio perché, come vedremo, anzi lo vediamo subito, Nier Protocol ha un consiglio di utilizzare come linguaggio di programmazione sia il RAST che l'Assembly che sono particolarmente graditi agli sviluppatori e soprattutto molto più easy to use rispetto ad altre chain. Questo è il modo in cui si interfaccia Aurora, vedete che dovrebbe essere considerato più tutti gli effetti un vero, proprio un motore che alimenta una transazione, una digital application su Ethereum che può andare velocemente su Nier Protocol e pertanto godere di tutta la sua infrastruttura. Ci ritorneremo più avanti comunque su Aurora, da non confondere con un'altra Aurora, codice di negoziazione appunto Aurora. Supply, beh Nier Protocol un miliardo di pezzi e in questo momento ne sono in circolazione circa 630, 620 milioni, 630 milioni, quindi 60% abbondante. Solana 500 milioni di pezzi e ne sono in circolazione quasi 310 milioni e come potete vedere c'è una differenza non indifferente. La supply di Nier Protocol è sostanzialmente doppia rispetto a quella di Solana. Costi e velocità. Nier Protocol potrebbe potenzialmente arrivare a 100 mila transazioni al secondo. Solana ha una media che può andare quando sarà ben spinta a 50 mila transazioni al secondo. Questo farebbe di Nier Protocol al momento attuale la chain potenzialmente più veloce, più veloce appunto anche di Solana. Ci sono per quanto riguarda Nier Protocol 59 active validators di questo parleremo a breve e Solana 1380. Come potete notare i nodi di validazione su Solana sono costantemente e progressivamente in crescita. Io ricordo qualche mese, meno di un mese fa erano 1250, adesso sono aumentati di 100 abbondanti. Questo è importante, il fatto che i validatori continuino ad aumentare. su Nier Protocol, il fatto che vi siano 59 validator non è per adesso un problema proprio perché nella seconda fase si dovrà arrivare ad avere anche attraverso l'architettura di sharding Nightshade, la validazione anche dei chunk e quindi questo aumenterà significativamente. Lo troviamo, vedete, menzionato proprio in questa stessa grafica tratta da il sito di informazione di Nier Protocol. Si tratta di una fase intermedia in cui per adesso ci sono pochi validators, però più avanti si arriverà ad avere anche un'estensione della validazione anche per le cosiddette sezioni, i tranci dei blocchi, ossia i chunk. Nier è concepito per essere fortemente scalabile più aumenteranno i livelli, più ci saranno, più aumenterà tutta l'architettura di sharding proprio perché, come potete notare, ad ogni shard in grosso modo corrispondono 200 transazioni al secondo. Per la logica proprio di architettura che abbiamo visto prima, man mano crescono queste spezzettature poi a loro volta ogni spezzettatura può generare altri tranci, altri sezioni che a loro volta consentono di aumentare la velocità nel complessivo e come potete notare la produzione di un blocco dura occupata 1 ai 2 secondi e questo è decisamente interessante. Costi di transazione Near Protocol siamo in questo momento a un centesimo. Solana è notevolmente più economica da questo punto di vista però una chain come quella di Near Protocol con un centesimo per costo di transazione diventa particolarmente attraente perché alla fine l'impatto soprattutto per determinate tipologie di applicazioni diventa veramente irrisorio ed è più conveniente che ne so rispetto a quello che si potrebbe avere da Avalanche e così via discorrendo. uno degli aspetti su cui pochissimi si stanno focalizzando è l'impatto in termini di carbon footprint che avranno e dovranno mettere in considerazione tante chain perché come ho già detto in precedenza quando termina tutto lo spauracchio pandemia le priorità di messa in sicurezza attraverso i protocolli sanitari contagio non contagio tutta l'attenzione mediatica si sposterà su questo vale a dire quanto sono sostenibili e che tipo di impatto sul versante della produzione di CO2 hanno alcune chain come potete notare in questo momento near e in pole position al pari anche di edera come avevamo detto edera asigrafo come avevamo detto in precedenza potete stare sicuri che qualcosa accadrà più avanti a tutte le chain che hanno un forte assorbimento di 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 energia e pertanto hanno un impatto negativo sull'ambiente lì in qualche modo faranno del male al nostro modo di vedere sul su chi sviluppa infrastrutture su questo tipo di su questo tipo di chain price action torniamo indietro di 12 mesi quindi grosso modo quasi all'inizio dell'anno del 2021 near protocol ha fatto un 10 per da 1.5 a 15 dollari solana da 2.5 a 150 attuali grosso modo siamo a 60 per quindi solana ha performato 6 volte di più rispetto a near protocol tuttavia se noi andiamo a prendere come si sta comportando near protocol scopriamo che è un crypto asset decisamente resiliente soprattutto in questo momento di mercato a cui abbiamo assistito ad un pesante contrazione che potrebbe addirittura anche dar vita a un a un breve supponiamo ci auspichiamo bear market invernale per l'inizio del 2022 tutto dipenderà dalla capacità di reazione di bitcoin almeno sul livello chiave dei 42 mila dollari nominal stake e qui near protocol da letteralmente la paga solana 10 punti percentuali contro i 6 punti e mezzo di solana ecosistema near protocol e sta letteralmente si sta letteralmente svegliando e scoprendo tutto il suo potenziale ci sono tantissimi progetti emergenti al momento ma la cosa più importante se andate sui forum di discussione dei developers c'è tanto interesse su near protocol chi ha sviluppato in passato su altri ambienti sta letteralmente utilizzando ad esempio aurora e tutto quello che sta dietro aurora per trasferire il suo progetto e partire e quindi renderlo più scalabile con la chain di near protocol l'aspetto ancora più interessante è chi invece proprio parte con l'idea di andare a realizzare una nuova applicazione su near protocol confidando poi anche dell'inter perfetta interoperabilità che ci potrà essere in un secondo momento anzi non in un secondo momento già attraverso i vari bridge solana ne abbiamo parlato con diffusione esplosa nel 2021 il miglior crypto asset in assoluto ma nel 2022 cosa succederà c'è ad ogni modo tanto imbarazzo nella scelta su cui andare a investire sui crypto project emergenti su l'ecosistema di Solana near protocol come potete vedere è in una fase di slancio ci sono tantissimi progetti che vengono lanciati quasi settimanalmente notate che ci saranno presto dei bridge che collegheranno il mondo di terra con quello di near grazie ancora una volta ad aurora e ci saranno pertanto effettivamente delle dei processi di interoperabilità non indifferenti in questo momento come potete notare ci sono oltre 237 crypto asset sviluppati su near protocol tanti di loro sono veramente attraenti magari ne parleremo più avanti facendo una selezione a nostro modo di vedere sui migliori 5 su cui andare a concentrarsi la DeFi su near protocol è al momento attuale abbastanza inconsistente ricordo un po' stellar circa il doppio in termini di volume però siamo solo all'inizio come potete notare ci sono due protocolli che assorbono veramente pochissima pochi capitali quindi near protocol è più interessante a nostro modo di vedere proprio per il potenziale di programmazione di nuovi crypto project che potranno essere scalabili quindi non necessariamente per la non necessariamente per il mondo DeFi lì magari ci sono già altre che hanno sgomitato in precedenza e hanno un ruolo di rilievo nel panorama la stessa cosa ormai la possiamo dire per Solana è un progetto che è qui per restare dipenderà poi come si svilupperà la competizione con le altre con le altre chain emergenti vediamo come sempre le domande topiche su questi due crypto asset a fronte di quello che abbiamo appena elencato e rappresentato investire su entrambi cosa sta facendo la società quali scenari sulla price action partiamo con tre int il primo nel 2022 ci aspettiamo uno scenario divergente non emergeranno tutti i progetti soprattutto se ci sarà bear market che si prolungherà oltre ogni ragionevole attesa ma ci saranno invece emersione di progetti anche poco decentralizzati ma tuttavia molto efficienti e scalabili e da questo punto di vista near protocol al pari anche di ed hash potrebbero essere le sorprese dell'anno andiamo avanti i driver di mercato saranno ad ogni modo anche gli ethereum contenders quelli che una volta venivano chiamati ethereum killers ethereum continuerà ad esistere però dovrà ridimensionarsi c'è sempre ricordatevelo quell'incognita la roadmap 2.0 le tempistiche e così via discorrendo non dimenticate mai il vantaggio che c'è con un protocollo stile near protocol nell'avere una tesoreria di protocollo che viene alimentata in relazione ai rebate su ogni transazione quella tesoreria serve per dare pubblicità slancio visibilità proprio alle opportunità che si hanno in ambito di deploying quindi di sviluppo di applicazioni per chi per chi per i developers quindi io confido fortemente che quella elemento caratteristico aiuterà tantissimo near protocol a emergere e già lo stiamo percependo proprio da queste ultime da queste ultime in queste ultime settimane infine il terzo hint approccio opportunistico dal nostro punto point of view dal nostro punto di vista non ha più senso il buy and hold con acquistare un asset lasciarlo lì in portafoglio e poi andiamo a vedere fra un anno due anni quello che sarà diventato assolutamente no meglio un efficiente iter è proprio su questa base che noi ad esempio abbiamo operato con grande anche successo proprio liberandoci di ethereum e liberandoci di cardano verso la fine del 2021 in un momento di mercato in cui c'erano tutte le condizioni per capire che non ha più senso il buy and hold a tempo indeterminato su determinati asset nel momento in cui c'è l'immersione di grandi realtà di grandi concorrenti che possono effettivamente e lo stanno facendo iniziando a erodere cannibalizzare sempre di più le market share near protocol e solana rispettivamente rappresentano due crypto due blockchain di con diversa con diversa impostazione che ognuno permette di ognuno dei due ha cercato la scalabilità la velocità e l'efficienza attraverso il famoso compromesso per soddisfare tutte le caratteristiche tipiche che ha il il trilemma l'importante è che funzionino e consentano poi l'interoperabilità e la velocità che saranno determinanti soprattutto quest'anno quando l'apporto di nuovi capitali e l'interoperabilità tra le chain porterà nel tempo all'immersione di chi si sta smarcando rispetto agli altri pro e contro di near protocol qui ci sono molti punti di riflessione che fanno capire il potenziale innanzitutto possibilità di scala in infinita grazie al night shade che sarà implementato che migliorerà nella sua struttura proprio anche grazie al processo di validazione dei chunk da qui al primo trimestre dell'anno open source e developer friendly blockchain edra abbiamo visto è un brevetto ma non è né open source e né tantomeno molto developer friendly infatti è una blockchain che viene utilizzata da chi da soprattutto dalle aziende dalle grandi corporation per sviluppare tutto il loro business interoperabilità con ethereum grazie ad aurora aurora potremmo considerare aurora come la matic per lo stesso ruolo che ha matic per ethereum o polygon matic polygon staking sciocca la zanzala l'unbunding period è di 24 massimo 36 sapete che cos'è l'unbunding period quando voi mettete in stake un asset poi dite adesso vado a fare il ritiro degli asset perché lo voglio spostare lo voglio andare a vendere dovete fare l'unstake ebbene ci sono chain come terra o cosmos in cui l'unbunding period sono 21 giorni 3 settimane chi adesso ad esempio aveva in staking faccio un esempio staking aveva in staking luna e lo voleva andare a vendere nel momento in cui il prezzo aveva si era portato abbondantemente sopra i 90 dollari fosse andato ad effettuare la procedura di staking deve aspettare 3 settimane per poter vendere nel frattempo 3 settimane non sappiamo che tipo di price action avrà luna la stessa cosa vale anche per tante altre per altre altre chain quindi nel caso di near protocol grosso modo devi aspettare un giorno e mezzo su solana sono due giorni però se utilizzate marinaid finance potete fare l'unbunding period è zero nel senso che grazie a msol potete comprare e vendere istantaneamente scusate potete fare l'unstake istantaneamente i meccanismi di burning del protocollo produrranno un scusate mi stavo dimenticando se ci sarà un elevato utilizzo di tutta la chain i meccanismi di burning renderanno deflattiva la chain al pari come dovrebbe accadere anche se ci si narrappare che per ethereum blockchain snobbata da tantissimi crypto influencer che sono focalizzati solo su 3, 4, 5 chain ben conosciute quando near protocol c'è questa mentalità ormai che ho visto sta diventando quasi a sue fatta cioè se ci sono pochi validatori lo devi lasciare perdere perché non è un blockchain che non vale sì forse magari 3, 4 anni fa ma adesso che ci stiamo rendendo conto che i capitali si stanno indirizzando dove una chain funziona è scalabile costa poco ed è efficiente anche e deve garantire un determinato tipo di interoperabilità il concetto il mantra della decentralizzazione come è già stato anche menzionato all'interno della stampa di settore andrà sempre più scemando durante il 2022 perché è impossibile è impossibile avere un chain scalabile veloce efficiente iper mega decentralizzata non si può bisogna scendere bisogna scegliere trovare appunto il famoso compromesso un terzo aspetti negativi un terzo dei token sono detenuti da insider al pari anche di tante altre chain ricordiamo Elrond ad esempio e infine per adesso è poco considerato poco decentralizzato ci sono pochi nodi però come abbiamo visto man mano che passeremo al secondo al secondo passo si potrà andare anche a validare i chanke questo apre a notevoli opportunità di partecipazione alla rete solana pro e contro le ricordiamo ancora una volta è più decentralizzato rispetto a Near Protocol proprio perché abbiamo 30 volte il numero dei validatori che ha circa 30 20 volte il numero di validatori che ha Near Protocol è più sicuro e al momento più veloce se ci sarà tanta adozione Near Protocol dovrebbe riuscire a superare solana però per adesso è la più veloce è più sicuro per quale motivo rispetto a Near Protocol perché ha il proof of history che ha conseguenzialità cronologica e non consente il parallel processing cioè il calcolo computazionale in parallelo proprio per ovvie ragioni dell'architettura di Sharding che contraddistingue Near Protocol abbiamo ancora ad oggi un'adozione massiva con nodi in continua crescita è difficile bisogna metterlo per un retail diventare validatore la scalabilità è proporzionale ai capital expenditures ossia quanto hardware verrà sempre investito sia dai validatori che ai futuri potenziali validatori è denigrata continuamente dagli Ethereum Fine Boys ogni qualvolta ti esponi su Solana ti arriva letteralmente una shitstorm da parte di quelli di Ethereum che dicono Solana tra poco collassa Solana non va da nessuna parte Solana un fuoco di paglia e così via discorrendo andate a vedere quanti progetti di rilievo soprattutto istituzionalmente di rilievo sono stati sviluppati su Solana partendo da zero vi è ad ogni modo in termini contro l'emersione di catene rivali Edera e qui io chiamerei anche Nier appunto proprio la stessa Nier Protocol che potrebbe diventare un competitor perché ha delle dinamiche di adozione che sono particolarmente attraenti soprattutto per i developer perché sono quelli che poi dirigono il balzer nella criptosfera per quanto concerne l'adozione delle chain infine i recenti slowdown più il famoso crashdown del 14 io lo ripeto ancora una volta utilizziamo Solana da ormai svariati mesi ma non abbiamo mai subito perdite di asset soprattutto durante i famosi slowdown sono due sono due fino adesso c'è un crashdown e due slowdown tanti denigrano questo tipo di episodi ovviamente non c'è da celebrarli ma bisogna vedere come si sta evolvendo tutto l'ecosistema rapportando ovviamente a come si sviluppano aumentano i nodi e soprattutto a chi serve Solana e quale dovrà essere il suo futuro utilizzo nel suo complesso in conclusione in conclusione uchain ha recentemente inserito con un approccio opportunistico proprio near protocol all'interno del nuovo crypto basket denominato i crypto future leaders lo troverete nella giornata di lunedì avevamo delle dotazioni ancillari cosiddette near protocol avendo studiato approfondito verificato tutta la bontà del crypto project questa settimana siamo andati ad appesantire in misura significativa proprio near protocol e vi dirò di più si è andati ad utilizzare una parte del gain effettuato su cosmos cosmos è stata si è avuto una presa di beneficio del 50% su cosmos ovviamente quando fai tanto profitto in pochi giorni all'inizio dell'anno non è che stai là a guardare se poi il profitto rientra ma prendi beneficio lasci correre ad ogni modo metà dello stake però nel frattempo ti vai a riposizionare su qualcosa che ritieni possa dare ancora sia ancora sottovalutato sia undervalued la nostra convenzione è che i prossimi driver di mercato per quest'anno privilegeranno appunto i network efficienti scalabili e veloci anche se poco decentralizzati tipo tipo Eder Ashker è per questo motivo che stiamo valutando anche di ridurre parzialmente la nostra esposizione di Solana nei confronti di Near Protocol Updates coming soon per dirla all'inglese trovate in descrizione tutti i link per andare ad approfondire che cos'è Near Protocol quelle che sono le principali price prediction da parte di interlocutori mediatici di spessore e prestigio professionale ed infine anche il link per andare ad ascoltare il proof of history di Solana quindi come funziona le modalità di validazione e perché Solana è particolarmente disruptive rispetto ad altri chain in relazione alle sue caratteristiche distintive